Stiamo vivendo una situazione in cui precipitano eventi, precipitano categorie intellettuali, precipitano istituzioni storiche e adesso si forma una nuova chiarezza. È un momento di disordine, ma questo momento separa un prima e un dopo. Un prima della cura e un dopo. Quando diciamo crisi, vi dicevo all'inizio, noi puntiamo su un'idea di tempo che da una parte è un tempo spezzato, la crisi spezza, ma dall'altra è un tempo continuo, cioè la crisi spezza ma poi qualche cosa produce una ricocitura. Noi, quando diciamo crisi oggi, in realtà in un altro senso, stiamo dicendo, non tengono più certi apparati intellettuali, pratici, non tengono più e collassa, delle distinzioni collassano, ma non credo che stiamo dicendo, né se siamo armati, questo è il problema, se siamo armati di buon positivismo nazionalista, se siamo armati di buon marxismo dialettico, che stiamo dicendo che comunque sia, ne veniamo fuori. Grazie.